Consigliere Massimo Morettuzzo, quali sono le vostre posizioni in merito ai danni causati dal maltempo? Noi crediamo che siamo davanti a una situazione davvero drammatica per tante persone, tante famiglie, tante comunità del Friuli Venezia Giulia e crediamo che si debba intervenire subito a sostegno di chi è stato colpito dai danni del maltempo, aumentando il fondo che è stato annunciato dalla Giunta. Noi speriamo che i lavori d'aula di questi giorni sull'assestamento, che è un assestamento molto ricco, da oltre un miliardo di euro, permettano di riuscire ad aumentare le disponibilità stanziate. Noi ci mettiamo tutta la nostra buona volontà, credo che sia una di quelle occasioni in cui la comunità politica e le istituzioni devono essere in grado di lavorare bene assieme, al di là delle appartenenze, per affrontare una situazione davvero emergenziale. Consigliere, grazie. Grazie a voi.